Il Spirito Santo, il Spirito Santo, il Spirito Santo. Potente la tua mano, Signore, una frase dal testo biblico dell'Esodo a far da guida al pensiero sviluppato nel corso della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, iniziata il 18 gennaio, che vedrà la conclusione il 25 gennaio prossimo. Ieri nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta in La Spezia la celebrazione ecumenica dell'evento. Le chiese cristiane si sono ritrovate con i loro pastori per un momento di preghiera assieme intonando canti liturgici. Ad offrire spunti di riflessione, dopo le letture dei testi sacri, il pastore avventista Evelyn Stuparu, il vicario generale della Diocesi della Spezia, Monsignor Enrico Nutti, e il prete rumeno ortodosso padre Daniel Danut Codita. Il testo delle riflessioni bibliche è stato suggerito per gli eventi di tutto il mondo quest'anno dal gruppo locale delle chiese caraibiche, le quali hanno suggerito anche la simbologia che ha accompagnato la riflessione della giornata. Al centro dell'Assemblea è stata posta la Bibbia, fonte di consolazione e liberazione per le popolazioni indigene, anche se la storia non nasconde le oppressioni e le sofferenze portate dai colonizzatori che portarono la cristianità. Tre catene presentate e gettate a terra come simbolo vigoroso di schiavitù, disumanizzazione e razzismo, di peccato e di divisione, sostituite nel corso della celebrazione da una catena umana che esprime invece simboli di comunione e di azione congiunta contro ogni forma di oppressione. Al termine della celebrazione, la lettura dei pastori delle chiese cristiane del documento redatto ad Assisi nel novembre del 2017 nel convegno nazionale, organizzato dall'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, in stretta collaborazione con le altre chiese cristiane evangeliche ed ortodosse presenti sul territorio nazionale, un convegno che aveva preso spunto dal 500esimo anniversario della riforma luterana.